Facciamolo. D'accordo. Lo considero un sì. Cosa? L'anello. Il mondo è ancora in lutto dopo la morte di Superman. Violenza, guerre e atti di terrorismo sono in aumento. Ho fatto un sogno. Il mondo stava per finire. Invasione. Credo che sia qualcosa di peggio. Di più oscuro. Chiediamo a persone che non conosciamo di rischiare la vita. L'uomo forte è più forte da solo. Mai sentito dire. Il detto non è questo. È esattamente il contrario. Divisi. Noi non siamo abbastanza. Serve Superman. Gli ho fatto una promessa. Per questo vi ho riuniti. La volata non è finita. Vai, amico! Sì! Oh, pazzesco. È il bad segnale, è il tuo... Oh, scusa. È il tuo segnale, vuol dire che dobbiamo andare? Sì, è quello che vuol dire. Troppo figo. L'assenza del deterrente rappresentato da Superman, stiamo assistendo a un'ondata di criminalità a un piano mondiale. E cosa hai fatto nel weekend, Diana? Io? Niente di interessante. Non ci sono protettori qui. Né lanterne. Né kriptoniani. Questo mondo cadrà. Come tutti gli altri. Si senta la mancanza dei giorni in cui la massima preoccupazione erano i pinguini che esplodono. È una pazzia. Combattere il diavolo e il suo esercito nell'inferno. non agite da soli. Dobbiamo farlo insieme. È forte vedervi tutti così pronti alla battaglia. Io non so niente di battaglie. Io do soltanto un colpetto e scappo via. Tranquillo, Alfred. Me ne occupo io. Eh... Ci conosciamo? Superman era un faro per il mondo. Salvava le persone e tirava fuori da ciascuno la parte migliore. Non lo riconosco questo mondo. Non lo devi riconoscere. Solo salvarlo. In quanti siete? Non abbastanza. Pensate davvero che... Oh, wow, ma loro sono appena scomparci. Eh? Oh. Che maleducati. Ha detto che saresti arrivato. Speriamo solo che non sia troppo tardi. Ja! Dobbiamo essere pronti. Tu, io, gli altri. C'è un attacco in arrivo. Da molto lontano. Non è in arrivo, Bruce. È già qui. Gli altri. Dove sono? Arthur Curry. Aquaman. Tocca a lui. Parte del corpo organico e biomeccatronico. È un cyborg. Forse dovresti muoverti. Barry Allen. Chiunque tu stia cercando, non sono io. Sei Batman. Hai detto che l'era degli eroi non sarebbe tornata. Deve tornare. Quali sono i tuoi superpoteri? Sono ricco. Un'altra cosa che posso dire è che devi essere liberi. Tocca a me. C'è va? Sono felice che sai fare di nuovo il gioco di squadra. Vestito da pipistrello. Mi piace. Magari è temporaneo. Ehi! C'è uno straniero che arriva in questo villaggio dal mare. Arriva d'inverno quando la gente è affamata e porta il pesce. Solo quando c'è la marea sobrana. come la notte scorsa. Parla. Credo sia in arrivo un nemico da molto lontano. Sto cercando guerrieri. Questo straniero. E altri come lui. Sto fondando un'alleanza per difenderci. È molto importante che io veda quest'uomo. lo dici come se spiegasse perché c'è un estraneo seduto al buio sulla mia seconda poltrona preferita. Ha detto che si batterà con noi? Più o meno. Più, più o più o meno? Forse è più o meno. Ha detto no. Ha detto no. Senti, bello. Io non so chi sei, ma chiunque tu stia cercando... E così sei veloce. Questa è un'eccessiva semplificazione. Sto mettendo insieme un team. Persone con capacità speciali. Sono in arrivo dei nemici. Può bastare. Ci sto. Ci stai? Accetti così? Sì, ho... Ho bisogno di amici. Splendido. Ho sentito parlare di te. Non credevo esistissi. Esisto quando è necessario. Arthur Curry. Dicono che sai parlare ai pesci. Spendio. Sì, ho fatto! Ci stai l'attemana. Ci stai l'attemana. Ci stai l'attemana. Make sure to be the best you ever had You find one